Quarta rassegna del giornalismo agroalimentare, agroindustriale, prosud. Partono i lavori questa mattina? Sì, partono i lavori, c'è tanto fermento, sono arrivate le scuole alberghiere da tutta la Calabria, siamo pronti già veramente con grande emozione. Quarta rassegna, sono qui tutti presenti, ci saranno tanti cookie show, tante iniziative, tante degustazioni, ma la cosa importante è che hanno aderito tre consorsi importanti e quattro giornalisti di fama nazionali che saranno qui a ricevere il premio per promuovere questo nostro prodotto, questo nostro bergamotto, perché tutto questo viene fatto per promuovere il Museo del Bergamotto, il Bergamotto di Reggio Calabria. I consorsi che hanno aderito, sono uno dei più importanti consorsi del Sud Italia, forse a livello nazionale, e il consorzio del Pomodoro San Marzano, verrà il presidente, faranno un cookie show e presenteranno questo prodotto che è da portare ad esempio a tutta l'imprenditoria. Poi c'è il consorzio del limone di Rocca Imperiale, che è un limone eccezionale, un altro delle eccellenze calabresi e verrà il suo presidente insieme al presidente dell'Apar, realizzeranno un piatto e verrà presentato un piatto con questo limone. E poi c'è una cosa che è la nostra kick, il nostro orgoglio della manifestazione, Goel, che è questo consorzio che raccoglie i beni confiscati alle mafie nell'agroalimentare, producono su terreni che inizialmente erano in mano a mafiosi e quindi fanno dei prodotti che sono un'eccellenza, dimostrando che in Calabria, che al Sud, si possono fare anche prodotti di qualità nella legalità. E questo ci orgoglisce. Poi ci sono questi giornalisti di fama nazionale, c'è l'amico Pino Aprile, che è un meridionalista eccezionale, ma ha scritto tanto sulla dieta mediterranea. C'è Luca Galtieri che viene, perché premiamo, striscia la notizia per la trasmissione che fanno sullo spreco alimentare. E poi ci sarà la responsabile editoriale di Tg3 Sicilia Alimenti, che si occupa di agroalimentare e daremo il premio anche a lei. Un'altra chicca, ci sarà presente Ioann Maria Farina, l'erede dell'inventore dell'acqua di Colonia, è il rappresentante di un museo importante dei profumi a Colonia. Immaginate che fa oltre 100.000 presenze l'anno questo museo. Sarà qui e cercheremo di combinare i profumi dell'acqua di Colonia con i profumi alimentari, perché siamo convinti che anche col cibo ci si può creare una certa profumazione. Quindi tutto questo in quattro giornate intense al Museo del Bergamotto, a Reggio Calabria, ci sarà la rassegna fino a sabato. Sabato sera concluderemo la serata con le premiazioni.